E' arrivato questo pacco. Devi far andare via tutti. Guardami. Salve, Detective Banks. Lei lo sa dove sono i suoi agenti? Gigsaw. Ma l'enigmista non era morto. E' morto. Trovalo. Abbiamo ore, non giorni. Come faccio a prenderlo se non c'è nessuno di cui mi possa fidare? Non puoi farlo da solo. Chiunque abbia fatto questo ha un altro motivo. Un motivo personale. Quando hai visto tuo padre l'ultima volta? Gigsaw ha un imitatore. Finirà male, molto in fretta. A tutte le unità. Agente a terra. Quello era solo un diversivo per farci uscire dalla centrale. Io voglio tutti su questo caso. Può essere ovunque. Può essere chiunque. Metterò questa città a ferro e fuoco. Salve, Detective Banks. Quando ha visto suo padre l'ultima volta? Tropica. Perto. Perto. Trova è un'imitore.